Ragazzi, laggiù, dove il sole tramonta maestoso, vediamo le vestigia dell'acquedotto di Claudio. Pure io mi chiamo Claudio! E chi se ne frega, sta zitto quando io insegno, non è ancora ora di ricreazione. Andiamo ragazzi, venite, venitemi da presto. Vediamo qui questa pietra di forma esagonale, propria dell'antica pavimentazione romana, detta anche opus incertum. Ma quella è in sergio. Sì, antico però, una vestigia del passato. Oh, prendiamo questo sassolino, vedete? Ho propriamente brecola, osserviamo negli strati. Sapete che dagli strati noi possiamo scoprire l'età? Fate circolare, fate circolare. Osservate bene gli strati, bambini, eh? Osserv... Oh, è caglia, eh? Ah, benissimo. Ci siamo ragazzi, eh? Ci siamo. Sì, sì, non mi sono sbagliato. Ecco qua. Eccola qua. Questa è cicoria, vedete? Bambini! Correte bambini! Eccoci! Bambini, vedete questa piantina? La vedete? Questa è cicoria. Pianta comestibile, vedete? Osserviamone la struttura. Guardate, butta giù le mani e ti dai una mano. Ce n'è dappertutto. Cercatele e portatemela qui. Sì, bambini, correte. No, questo è trifoglietto. La cicoria, ho detto. La cicoria, osservate, che voi? Andate oltre. Vai laggiù, va. Valla dietro. Eh, ma pure tuo padre, con sta pulga. Avanti, piccoli. Questa è buona, signor maestro. Tenga, signor maestro. Portatemi la cicoria. Ecco l'insalatina, signor maestro. Oh, doprotago, doprotago, che in montenegrino vuol dire molto bene. Dobrotago, doprotago. Questa è niente, doprotago. Questa non è buona. Questa è solecchia d'assino. Quella buona è quella come la mia. Cicori, ho detto. Queste altre erbe non sono comestibili, bambini. State attenti. E cali? E cali? Shhh. È molto che questa voce non giungeva alle mie orecchie. Voce soave, fresca e giovanile. Oh, guarda com'è procace. Ma è una gallina. Già, è un pennuto da cortile. Circondiamolo, figliuoli, circondiamolo. Ha detto che scappa. Non facciamolo scappare. Ma hai detto dall'altra parte, Dante Luci. Pringetemi, venite, figliuoli. Oh, questo è detto propriamente pollo. E può anche essere pollo arrosto, pollo alla diavola, pollo alla cacciatora. Eventualmente anche pollo in frecassea, la romana, allo spiedo. Oh, eh, beh. Oh, dopro aiuto, fattore, dopro aiuto. Che hai detto? Buongiorno in montenegrino, vero? Sì, ma qui che fai? Io insegnavo, figliuoli, questo pennuto da cortile. Lui non insegni proprio a niente, perché la gallina è mia. E se non te ne vai, ti faccio un grugno così, hai capito? E che ignoranza è vero, ci sono i bambini innocenti, ci sono. E poi dice che è un paese civile, questo. Già, te lo dico io. Andiamo, bambini, andiamo, lasciamo il pennuto a questo brutto. Chi è te il pennuto? Sì, sì, me lo tengo. E poi dice che c'è la libertà, vero? Già, ma vattene a destra, va. Non ti può neanche spiegare un pennuto, gigetto. Andiamo, bambini, andiamo. Gigetto! Grazie. 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 Grazie.